...fortemente complicato, che sia ulteriormente complicato negli ultimi decenni. L'abbandono progressivo dell'allevamento dell'agricoltura e anche dei tradizionali mestieri che si svolgevano in montagna non può essere soppiantato soltanto dal turismo, che comunque è e rimane una risorsa economica importante e fondamentale. La scommessa dei prossimi anni, sono d'accordo con il Ministro Costa, sarà legata ad un'inversione di tendenza, cioè a valorizzare non soltanto la presenza turistica, ma anche ad un ritorno alla residenza. Per questo è necessario sostenere il commercio, sostenere l'allevamento, sostenere l'agricoltura. Questi ultimi due aspetti, tra l'altro, importantissimi per la tutela del territorio, ma sarà importante anche non avere una visione soltanto economica dei servizi pubblici locali. Scuola, lo ricordava il Ministro, la sanità, i trasporti, le poste, sono comunque elementi fondamentali che determinano anche la qualità della vita delle persone. Le persone che vivono in montagna non sono cittadini di serie B rispetto ai cittadini che vivono in pianura e, se il Governo è consapevole di questo, non posso che dichiararmi soddisfatto. Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2521, del deputato Caruso, concernente iniziative di competenza a tutela della rappresentatività sindacale presso poste italiane S.P.A., con particolare riferimento alla vicenda dei permessi sindacali retribuiti alla UGL Comunicazione. Il deputato Caruso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A un minuto, onorevole. Prego. Grazie, Presidente. Signor Ministro, secondo le notizie in mio possesso, l'azienda poste italiane S.P.A., come noto partecipata allo Stato, ha revocato a partire da 17 marzo 2016 i permessi sindacali retribuiti da prima attribuite e godute, poi di seguito revocati, alla Federazione Nazionale Comunicazione UGL Comunicazione, con sede legale in Roma, via volto numero 40. Firmatale del contratto collettivo poste italiane S.P.A. è dotata di rappresentatività oltre il 5%, come documentalmente risultante dalla stessa azienda, dalle deleghe sindacali in possesso della vedesima. L'arrevole dei permessi sindacali retribuiti sarebbe stata giustificata da poste italiane S.P.A. sulla base di una presunta situazione di incertezza, in ordine all'identificazione del legale rappresentante della Federazione Nazionale Comunicazione UGL Comunicazioni e dei legittimi